Semplici, genuine, gustose, le carni di Fior di Bontà stuzzicano la fantasia ed appagano il palato. Un'infinita scelta di piatti di carne preparati in giornata e pronti da cuocere per chi ha poco tempo o per chi vuole gustare in un pranzo tra amici preparazioni elaborate. Carni selezionate di provenienza italiana con macellazione propria. Un ricco banco completato da formaggi tipici, latticini, caciocavallo podolico di Montella, pasta fresca e pane sempre fragrante. Fior di Bontà, in via Bellabona ad Avellino, 339 4402821.